Un saluto agli amici del blog ilmonti.com. Questo è il mio appello elettorale a pochi giorni dal voto. Voglio fare con voi un piccolo esperimento. Davanti a me ci sono tre bicchieri, tre bicchieri che rappresentano le tasse che i cittadini della Lombardia, del Lazio e della Sicilia, versano allo Stato italiano. Questo è il 100% delle tasse che ognuno di loro versa. Ma vediamo adesso come si comporta lo Stato nei confronti di queste tre regioni. Partiamo dalla regione Lombardia. Le tasse vanno allo Stato di Roma. Adesso prendiamo le tasse dei cittadini del Lazio. In Lombardia rimane il 66% delle tasse versate. Qui ci sono anche le tasse dei cittadini lombardi, le tue tasse. E lo Stato, alla regione Sicilia, decide di dare il 120% delle tasse che versa. quanto spreco. Non funziona così. Noi non vogliamo uno Stato che spreca. Noi vogliamo uno Stato eco. Allora se voterai Lega Nord, tratterremo il 75% delle nostre tasse in Lombardia e al Nord, dove sono prodotte. Elimineremo gli sprechi e avremo le nostre regioni con servizi molto più efficienti e molto più economici. Se invece domenica e lunedì deciderai ancora una volta di non votare Lega, sarai costretto a pagare gli sprechi di tutti e riceverai solo il 66%. Sta a te se vuoi 75% o vuoi 66%. Io voglio 75%. Io, domenica e lunedì, andrò a votare Lega Nord, anche sulla scheda rosa, per la Camera dei Deputati. Fatelo anche voi!